Ok, adesso sto riprendendo. Sorridete, sorridete che sto riprendendo, ragazzi. Subito, lui, aspetta. Ci abbiamo visto, ci abbiamo visto, tu. Belacicco, dov'è? Eccolo lì, è lui, mettiti la maschera. Ok. Ok, la guardia costiera che se ne va, le tue navi, e la calaiunco col presidente, va. Hai premuto? Sì. Controlla qua. Sta ancora riprendendo.